Anche quest'anno, con il quattro timore in più, in delle condizioni meteo delle ultime ore, si è celebrata a Favara la Via Coragius, un momento molto toccato per i cattolici che si sono radunati per la mattina in aria di Aragura, dietro il simulino di Aragura, di Aragura e di Aragura. Il corteo dei fedeli ha percorso le 14 stazioni di dolore e passione in Giasu, sfruttandosi da Favara e da tutti i bambini via Umberto, per giungere infine in Piazza Capitano Baccano, dove la statua della Puglia di Dio è stata crocifissa nella croce centrale del bambario, sotto lo sguardo addolorato della madre. L'omelia è stata affidata a Fra Salvatore di Bartolo. Intanto, per tutto il pomeriggio di oggi, la visita dei fedeli verso la cosiddetta cruci per dare un ultimo saluto al Signore crocifisso. L'azione liturgica, nelle quasi totalità delle chiese di Favara, è inizio alle ore 17 e comprende tre particolari momenti. La liturgia della parola, seguita dalle dieci intenzioni di preghiera, poi la venerazione della croce e infine la comunione. Intorno alle ore 22, prima della deposizione del Cristo morto dalla croce nella bara di vetro, l'omelia di Donna Calogero Lobello. A seguire canti di passione e la silenziosa processione di fedeli con lumini in mano per accompagnare l'urna e il simulacro della Madonna addolorata sino in Piazza Cavour. Previste anche per quest'anno le sentite soste intermedie per il canto tradizionale innalzato dai fedeli a sì versate lacrime. In Piazza Cavour, l'omelia dell'arciprete di Favara, Don Giuseppe d'Oriente, la prima nel giorno del venerdì santo da quando è arrivato. A mezzanotte circa, la tradizionale spartenza. Anche quest'anno, uno dei riti forse più forti, emozionanti e attesi dai favaresi è che vede la disperata corsa della madre vestita a lutto verso il figlio destinato al sepolcro.